Nelle prossime settimane sarò in grado di dare ai nostri giovani laureandi l'opportunità di tre mesi di terrucino presso il mio ufficio di Bruxelles. Tutto questo fino alla fine del mandato. Condividere questa esperienza dando un'opportunità a chi non può è un gesto doveroso verso i nostri ragazzi. La scelta sarà sempre su base curriculare e con criteri tali da garantirne il merito. Abbiamo messo su uno sportello di ascolto per tutti gli amministratori locali e imprenditori del Sud, per ciò che congene la complessità dei fondi europei diretti. La base operativa è e sarà la Segreteria Politica di Salerno. Non appena l'emergenza Covid ce lo consentirà, organizzerò a Bruxelles una serie di seminari per amministratori pubblici, imprenditori e studenti per creare reali opportunità di crescita. Saranno a mio fianco accademici e specialisti italiani perché è così che deve essere. Concretezza, questa è la parola chiave. Sarò un lavoro e un impegno senza pari ma è anche questo il cambio che volevo. Il virus certamente non mi ha aiutato ma la mia volontà è più forte. Non mi spavenda di dover combattere per ciascuno di voi perché so che ciascuno di voi è con me e come me amiamo quello che siamo, gente del Sud.